Giro di vite a Calatabbiano per chi non segue la raccolta differenziata. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di intensificare a partire da oggi i controlli nel centro urbano da parte del personale della Polizia Municipale e della Caruter, la ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale, per appurare l'osservanza del calendario della raccolta porta a porta in vigore. Le eventuali infrazioni, sottolinea un avviso pubblico del Comune, verranno sanzionate come previsto dal regolamento della raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, adottato dal Consiglio Comunale lo scorso mese di luglio, con l'invito all'utente a ritirare i sacchetti non conformi e a conferirli nel giorno corretto. Le sanzioni per il mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti vada un minimo di 25 euro ad un massimo di 150 euro. Sanzioni maggiori, sia amministrative che penali, nel caso invece di abbandono di rifiuti pericolosi da parte di titolari di imprese, oltre ad eventuali oneri aggiuntivi per la corretta selezione e l'avvio a smaltimento dei rifiuti conferiti in difformità alle norme stabilite. Puntiamo ad incrementare, dice il sindaco Giuseppe Intelisano, la differenziata sul territorio, ma per farlo è necessario la collaborazione di tutti i cittadini, i quali dovranno porre la dovuta attenzione al calendario della raccolta del porta a porta. Nei prossimi giorni, accanto all'azione di controllo, gli operatori del servizio che svolgono il loro lavoro con diligenza professionale per tenere pulita la cittadina, continueranno ad informare e sensibilizzare gli utenti sul corretto conferimento dei rifiuti. Già in passato erano state elevate sanzioni a titolari di ditte, immortalati a scaricare ingombranti e materiale di risulta nei pressi della vecchia isola ecologica. Oltre al porta a porta, il Comune ricorda che è sempre disponibile il servizio comunale di ritiro degli ingombranti.